Il quadro di cui stiamo lavorando, oggi è chiaro a tutti che c'è il quadro dell'aggregazione delle multiutili che si sta chiudendo, l'Italia, l'Unione Romagna l'ha chiuso, l'Unione Romagna l'ha chiuso, l'Unione Romagna, rimane con le due principessine che sono Vicenza e Perona. Allora, io credo che sia importante, abbiamo visto il caso di Asco Piavre, è importante perché Asco Piavre ha detto, è andata, ha avuto un'offerta pubblica, una manifestazione di interesse, un'offerta pubblica che ha portato alla società ad avere, ad essere, come dire, ad avere una valutazione molto importante. Allora, in questo quadro ci chiediamo come mai Vicenza debba parlare direttamente di una società già decide da un advisor e invece proprio queste scelte, le possibilità, debbano passare anche attraverso una manifestazione di interesse pubblica e poi una scelta sulla base dei criteri, naturalmente, che poi devono essere anche. Voglio dire, è chiaro a tutti che siamo in una condizione oggi unica e ripetibile che la società sa, come Riena, che abbiamo visto nei bilanci di questi giorni, possa andare sul mercato e scegliere lei, non indirizzata, i migliori partner. C'è il tema della proprietà, il tema della proprietà, su chi comanda in questa gnuco, ci sarebbe già il tema di capire perché non gnuco, oppure perché non invece è un conferimento e portarsi a casa i territori, alimenti, azioni o soldi. Ma comunque, il punto è questo, il tema della proprietà è questo, che lei dice, afferma, che certo il peso nei consigli di amministrazione può essere di un certo tipo, poi però deve essere compensato in un'altra maniera, ovviamente, attraverso fatti parasociali, eccetera. Il punto è questo, lei fa riferimento al modello dei territori, eccetera. Allora, su questo modello dei territori, ho fatto vedere, è molto semplice da parlare. Allora, il modello che è venuto fuori è il modello in cui A2A ha il 39%, 38% piccoli per cento, il comune di Mondo ha il 10%, il comune di Poma ha il 961%, il comune di Sombrio ha il 3%, di Poma ha il 401%, quindi quando stiamo parlando di controllo pubblico, cioè il modello a cui facciamo riferimento, se quello è il modello a cui facciamo riferimento, questi sono i dati conferenti che non lasciano tanto spazio alla discussione su chi poi comanda. Legato a questo c'è il tema degli asset, il tema degli asset è molto importante perché lei dice giustamente cosa ci viene dato in cambio, cos'è che entra in questo gioco. Allora, sul tema degli asset, anche qui bisogna vedere bene effettivamente quelli che sono gli asset che vengono offerti e messi sul piatto, perché c'è una domanda innanzitutto che è legata al territorio, come mai non si persegue il territorio, cosa c'è nel territorio è che noi possiamo andare da fuori, che dobbiamo andare da fuori, che dobbiamo andare da fuori. Mi risulta che a 2A ci posso offrire qualcosa in termini di smaltimento dei rifiuti e di termine di valore di rifiuti, ma siamo molto notati e sappiamo benissimo che portare i rifiuti fuori e la regione costa, mentre se li smaltiamo qui è ben diverso. Questo è un tema e ce ne sono tanti altri. Cioè, bisogna capire bene quali sono gli asset che vengono messi in gioco, perché rischiamo che questo gioco sia una somma che non è favorevole al nostro interesse, che dovrebbe essere che il interesse sono dei vincettini di quale ha finito. C'è, legato a questo c'è il tema, che è legato alla linea di comando, questione che è stata posta, certo a 2A inizialmente entra con una piccola percentuale, ma è chiaro che quando parliamo di una società, entra in gioco il discorso dei capitali. Lei risponde che non c'è questo problema, perché abbiamo capacità di crescere negli investimenti fino a 5.000 euro. Allora, la domanda che mi sono fatto è, a San Viaggio abbiamo trovato i pozzi di petrolio, sapevo benissimo che, lei lo sa meglio di me, che AM può indebitarsi, o meglio può investire o crescere di capitale, fino a un certo punto lo stesso GSM, chi può farlo e a 2A, ma non credo che lo faccia grazie a che tanto è. Quindi, torna molto, in maniera molto preciso questo tema di chi ha il punto e ha la possibilità poi di diventare le note. Qui sono alcuni dei punti, ce ne sono molti altri, io credo che però, io ho già detto molto, è qui per lanciare la discussione. Mi piacerebbe avere appunto, ah, una cosa, sui due punti, e questo lo chiedo all'amministrazione, perché sul tema del, ed è quello tutto vero, secondo me, che è di là di tutte queste cose che stanno entrando nel progetto, ma secondo me quello che sta prima, ed è la cosa vera, è la possibilità di scelta. Cioè, noi siamo, vicenza, è nella condizione di poter scegliere almeno. E allora, io dico, io chiedo, ad oggi, ci sono altre manifestazioni di interesse allevate, questo lo chiedo evidentemente all'amministrazione, oltre a quelle che abbiamo di, di cui ho lettera, mi è stata inviata di Trento, di Bolzano, sono arrivate altre manifestazioni di interesse, perché io credo che sia importante, da questo punto di vista, che questa cosa e queste manifestazioni di interesse che capiamo arrivano, vogliono dire qualcosa, vogliono dire che c'è l'interesse, e io, come mi insegnante, mio nonno, al mercato, valuto molto bene, prima di interesse, le cose che vengono offerte, prima di andare a mettere il prezzo sul cartellino. Prego! Non so che vuole rispondere a tutti.